Se parliamo del discorso dell'incidentalità stradale, sicuramente non possiamo prescindere dall'affrontare gli ultimi dati pubblicati completi, che sono quelli Istata ACI del 2015, in cui è emerso per la prima volta da più di dieci anni a questa parte un aumento della mortalità sulle strade. Quindi a fronte di un decremento complessivo dell'incidentalità anche nel 2015 rispetto al 2014 assistiamo a un aumento della mortalità. Questo viene spiegato dal fatto che gli incidenti sono più gravi, che le persone non hanno il tempo evidentemente di vedere il pericolo e di tutelarsi, di frenare. Questo viene ricondotto all'utilizzo degli smartphone, dei cellulari alla guida e questo ci porta a una politica di aumento dei controlli in questo particolare settore. Noi come Polizia Stradale di Piacenza nel 2016 abbiamo incrementato notevolmente i controlli in questo particolare segmento di vigilanza stradale, tant'è vero che rispetto all'anno precedente abbiamo aumentati di quasi il 100%, abbiamo praticamente raddoppiato le contravvenzioni per la guida con telefono cellulare. Quindi non c'è dubbio che la mia raccomandazione non possa che essere quella di non distarsi la guida e di non mettersi la guida alterati dall'utilizzo di alcol o di sostanze stuporacenti.